Se stai in social care, spendendo almeno 400 euro sui guardarobatax e o accessori interni complement, riceverai un buon acquisto del 20% sui importo speso. Solti i dettagli su care.it Non tutti pensano al futuro allo stesso modo. C'è chi è fatalista. Eh beh, se deve succedere, c'è chi è pessimista. Tanto andrà malissimo. E poi c'è chi è il nuovo T-Watt. Il futuro, tutto sotto controllo. Votati 1.6 TDI con frenata automatica di emergenza e rinnovamento pedoni. Mantenimento attivo della corsiera e rinnovatore della stanchezza di serie. Solo a maggio 2 a 26.500 euro. Scoprile in tutte le concessionarie. Occhio su Volkswagen.it. Abituatevi al futuro. DJ chiama Italia. E' di Orlanda terribili. E' di Orlanda terribili. E' di Orlanda terribili. E' di Orlanda terribili.